ciao a tutti buongiorno bentrovati grazie a video radio channel per ospitare la promozione del mio progetto che si chiama rispondimi e che consiste nel raccogliere le opere che vorrete inviarmi quindi musiche poesie brevi racconti fotografie video quadri e quant'altro voi siete in grado di produrre questo materiale andrà formando un album strumentale e un libro che sarà legato al civile noi altri interagiremo continuamente l'un l'altro aggiungendo del materiale e creando un caos musicale che prevedo molto interessante se molto ben gestito ovviamente e questo materiale sonoro potrà essere a sé stante oppure diventare sottofondo dei recitativi dei testi che vorrete inviare a distanza di un paio di settimane dall'inizio del progetto è arrivato un sacco di materiale bellissimo è già nata una canzone e due brani strumentali quindi aspetto quant'altro vorrete inviarmi l'indirizzo è live chioccio alla riccardo zappa punto it oppure più semplicemente contattandomi nella chat di facebook nella mia pagina perché io ci sono quasi sempre a tempo pieno e vi rispondo in tempo reale allora di nuovo grazie a presto aspetto le vostre opere vi terrò aggiornati sempre tramite video radio channel grazie ciao buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti